Molto bello anche un altro concetto di cui parlo ormai da Eoni, credo, e regiologiche probabilmente, che è il concetto della noia, ossia noi spesso tendiamo, ci preoccupiamo quando i nostri ragazzi, magari anche i nostri figli si annoiano, perché li vorremmo vedere sempre felici, oppure sempre performanti. Allora, ecco che gli iscriviamo a 10.000 corsi, pallavolo, nuoto, calcio, perché nulla di male, è sempre sport, fa sempre bene, ci mancherebbe, però il problema poi qual è? Il problema poi è che questi ragazzi non hanno più spazi per se stessi, e quella noia che noi solitamente nella società nostra, noi attribuiamo alla noia un'accezione profondamente negativa, perché la vediamo come il contrario dell'entertainment, tutto deve essere divertente, tutto deve essere funny, o anche, ad esempio, è anche il contrario della produttività, perché se stai lì a, tra virgolette, cazzeggiare, non sei produttivo, perché? Perché non stai studiando per l'interrogazione, cioè tu la studia per l'interrogazione, ci mancherebbe, però, oppure, nel caso di noi adulti, non stai lavorando, non ti stai sbattendo a fare i progetti, a fare robe di questo tipo. Allora, ecco che, in realtà, il concetto di noia può anche avere delle valenze molto positive, perché alla fine, se noi intendiamo, la noia come il vuoto, ma il vuoto non nel senso, tra virgolette, occidentale, quindi negativo, mancanza di materia, mancanza, ma il vuoto io la vedo più all'orientale, che è semplicemente spazio. Il famoso, tu prima hai citato la storiella indiana, io cito la storiella zen, il monaco che continuava, il nobile che gli chiede come faccio a raggiungere l'illuminazione, allora il monaco che prende un vaso, una brocca, inizia a versare acqua, 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 finché l'acqua inizia a straripare, e a un certo punto il nobile dice, ma non vede che sta uscendo fuori dalla brocca, è il monaco che dice, proprio come questa brocca, io come faccio a darti degli insegnamenti, che tra virgolette vuole dire farti crescere, aiutarti ad evolvere, se prima non fai spazio all'interno di questa brocca. E ahimè c'è da dire che è un uso, diciamo, poco consapevole da una parte e anche, se vogliamo, poco considerato dall'altra, del digitale, ahimè rischia di portare verso quella direzione. Perché? Perché il digitale ancora di più riempie non solo i nostri momenti della giornata, ma anche quelli che, anche nel marketing, vengono definiti micromomenti. Quindi, quei cinque minuti in cui stiamo in coda davanti alla posta, anziché rimanere con noi stessi, quindi tra virgolette annoiarci, tiriamo fuori il cellulare, andiamo su Facebook e vediamo, in qualche modo noi, anche solo quel minuto, davanti al caffè, al bar, e ce lo dobbiamo riempire in qualche modo. Rischiamo di prendere tutto questo e trasferirlo anche ai nostri ragazzi, impedendo, come hai detto tu prima, quindi di crescere e quindi di evolvere. Perché? Perché diventano sempre meno in grado di sentire se stessi dentro di loro. Quindi è molto bello questo concetto. Occorrono, allora, abbiamo un ascolto, chiaramente, no? Empatico, un ascolto attivo, che deve essere fatto dall'interlocutore che tu hai di fronte, ma c'è anche quella con l'interiore, no? Imparare a stare con se stessi, la solitudine non è negativa. La noia che ti diventa creativa, tu vedrai che un bambino, se tu non gli dai nulla in mano per giocare, lui si mette col ditino a terra e magari comincia sulla terra a fare dei disegni, con un pasticino, con dei sassolini, comunque crea. Una bambina che guarda fuori dalla finestra è in questo modo, ma io ti assicuro che guarderà quelle nuvolette come se fossero, non so, dei personaggi. Quindi ricordiamoci che qualunque cosa è stata creata, anche i palazzi che noi vediamo fuori, sono stati prima immaginati, sono stati prima pensati, per poi essere messi poi, progettati, pianificati, messi su una carta. Quella carta che cos'è? Non è altro che un progetto quindi d'architettura per l'esperto, tu vedi il bambino è un disegno, ma hanno la stessa importanza. Perché questo? Perché il disegno, anche il disegno di un bambino, è una comunicazione interiore, porto fuori quello che ho dentro. Ed è sbagliato quando noi diciamo al bambino, uh che bello, lo attacco nella cameretta. Non è così che bisogna procedere. Bisogna chiedere proprio al bambino, mi spieghi cosa hai fatto, lo leggiamo insieme, trascorriamo mezz'ora, un'oretta, a leggere, a leggere, perché me lo leggi tu, il tuo disegno. E quando l'abbiamo letto che viene valorizzato ancora di più, perché quel bambino comprende che tu gli stai dando tempo, tempo di vita, perché è intelligente, perché se vede che tu lo prendi e gli dici che bello, lo mettiamo qui, lo diamo alla nonna ed è finito, te ne riprodurrà un altro e se lo attacca a lei o lui al muro, perché dice me lo guardo da solo, non ha importanza. Sì, è vero. Ma è di fermarsi che fa l'importanza.